amici di fegati spappolati buongiorno siamo in mezzo alle nocchie nocchie cherry tre bastoni due funghi proprio che ho fatto stanno stai buttando strane questi funghi questi bombolotti vabbè lo mettiamo dentro vai pure tu dentro il gallinaro cammini 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 altro bomboletto eppure tu oppure tu vai nel gallinaro cammini cammini eppure tutto e questo vabbè prendiamo lo portiamo nel ca del Dinaro poi giri queste canalette fatte un pessoi vai a vedere sotto una spinara oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo una bomba a mano buona visione continuo